allora bimbi lo vedete questo è un fumetto i 5 della selena di milani battaglia un fumetto di fantascienza classica molto bello appena ristampato dalla mpe e era già stato stampato nel 96 ma in realtà risale al 62 perché è riuscito a puntate per la prima volta sul corriere dei piccoli siccome so già cosa c'è qui dentro facciamo un unpacking senza sorprese però interessante vedere com'era ecco la copia del corriere dei piccoli sfogliamolo un po vedete che copertina particolare svelato il mistero dell'ultimo viaggio dell'astronave s ci sono altri fumetti a quello che ci interessa c'è la selena eccolo qua notate questo è a colori il corriere dei piccoli 1962 questo è l'originale la prima puntata ciao 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 ciao